Ehi, pelle. Sì, Dove. Non ti ho seccata, vero? No, sei così diverso dai saponi normali. Tu non mi lasci tirati secca. Sai, sono fatto di sostanze detergenti neutre. Eppure, hai qualcosa in più. Un quarto di crema idratante. Ecco perché insieme all'acqua formi una crema ricca e soffice. Sei così delicato che con te tutta... un'altra vita. Dove non secca la pelle come un normale sapone.